La Russo Calcio fa sul serio, oltre al regista Sascha Leonardi, il DS Chilleri e Mr. Barbagallo stanno dando l'assalto in queste ore ad un altro pezzo importante della fiume freddese pronto a svincolarsi dal club giallorosso che ormai di fatto ha chiuso i battenti. La Russo infatti sta corteggiando con insistenza Antonio Vecchio, difensore centrale che in prima categoria è in condizione di fare la differenza. Vecchio, un po' come il compagno Leonardi, quasi legittimamente aspetta però una chiamata da un club di categoria superiore, che però se non arrivasse nel giro di una settimana dieci giorni potrebbe indurre ad accettare la proposta biancazzurra, che sarà irrisoria dal punto di vista economico ma rimane valorosa sotto il profilo tecnico perché il progetto Russo ha l'ambizione di unire il piacere del clima familiare al desiderio del salto in promozione per dare alla piazza ripostese una vetrina degna del suo blasone.